Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che come di consueto potete seguire in contemporanea streaming sul canale 12 del vostro televisore e ovviamente anche sui nostri social, sulla nostra app e sul nostro sito www.etvmarche.it Partiamo dalla notizia di giornata che è arrivata nella tarda serata di ieri ma di fatto sancisce un accordo storico per quanto riguarda tutta la regione Marche. Amazon investirà nel territorio perché Interporto e Scannell hanno sottoscritto il contratto preliminare. Amazon a Iesi, il colosso dell'e-commerce, è finalmente pronto a sbarcare. Ieri 16 dicembre il Consiglio di Amministrazione di Interporto Marche e lo sviluppatore Scannell hanno sottoscritto un contratto preliminare avente ad oggetto la piena proprietà di un'area di terreno epurata dai diritti edificatori, nonché diritti edificatori per 27.000 metri quadri funzionali alla realizzazione all'interno dell'area interportuale di un insediamento produttivo con destinazione a piattaforma logistica di dimensioni rilevanti, secondo il progetto urbanistico posto a base delle delibere di approvazione, i diritti di servitura relativi all'utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate da Interporto Marche, strade, fognature e altri impianti all'interno dell'area interportuale e per la realizzazione della nuova strada. Nella tarda serata di ieri il CDA di Interporto si è recato a Palazzo Raffaello per darne comunicazione al presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli che qualche giorno fa si era espresso in maniera ottimistica sulla questione Amazon che può rappresentare un volano per l'economia delle marche. Questa di Amazon per noi è fondamentale anche soprattutto nella prospettiva di Interporto che è una infrastruttura che può dare un grande contributo alla intermodalità e alla logistica della nostra regione e soprattutto può diventare un punto di riferimento per le politiche di sviluppo del medio atriatico. L'Interporto, Aeroporto e Porto possono insieme costituire un polo che nessuno ha a livello infrastrutturale come la regione Marche e su cui si può basare il rilancio di una competitività e di un'attrattività di investimenti. Il presidente di Interporto Marche Massimo Stronati ha ripercorso i mesi della ripresa della trattativa con Scannell dall'avvento del nuovo CDA e ora a operazione di fatto conclusa ha detto si tratta di un altro tassello propedeutico alla nascita del polo logistico che darà nuovo impulso formidabile all'economia e in particolare alla mobilità sostenibile su rotaia. Siamo ancora più vicini a questo traguardo. Soddisfazione anche per il sindaco di Iesi, Lorenzo Fior del Mondo, che ha parlato di una bella notizia per la città e per tutta la regione. E torniamo ad occuparci di alluvione perché ci sono buone notizie e qui siamo sul nostro sito perché come vedete il sindaco di Seniglia, ieri lo ha fatto attraverso un video, ha annunciato che dal governo sono in arrivo i fondi per il contributo di autonoma sistemazione. C'è stato da poco comunicato il decreto del vice commissario delegato che attribuisce al comune di Seniglia il denaro per il CAS rivolto alle famiglie che a seguito dell'evento meteorologico nella notte tra il 15 e il 16 settembre hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Così il sindaco di Seniglia Massimo Livetti e ci sono dunque buone notizie per gli alluvionati che stanno cercando di affrontare la fase della ripartenza e attendevano queste risorse da ormai tre mesi. Si tratta di una parte delle risorse stanziate dal governo Draghi, quindi i 5 milioni annunciati dall'ex premier. E ora invece torniamo ad occuparci della Rimmel, l'incendio che ha devastato il capannone che tratta lo smaltimento di rifiuti tecnologici. Ci sono i dati dell'ARPAM che hanno fornito un quadro piuttosto definitivo. La qualità dell'aria riscontrata nelle ore immediatamente successive all'incendio che ha coinvolto la Rimmel ha subito importanti ripercussioni per l'emissione di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e di diossine e furani in seguito alla combustione di materiali e rifiuti presenti nello stabilimento. Tali sostanze si presentano assorbite sulle polveri sottili PM10. Sono le conclusioni dell'ARPAM dopo le analisi effettuate in seguito all'incendio che il 5 dicembre scorso ha distrutto il capannone dell'azienda di Casette Verdini di Pollenza che si occupa di smaltimento di rifiuti elettronici. Questi dati sono il frutto delle rilevazioni effettuate mediante il campionamento delle polveri sottili vicino alla scuola di Via Europa Casette Verdini nelle ore immediatamente successive a Rogo, cioè dalle 6 e 17 del 6 dicembre alle 6 e 17 del 7 dicembre, quella che viene considerata dall'Agenzia la fase acuta dell'evento. Le condizioni meteoclimatiche, aggiunge l'ARPAM, non sono state favorevoli alla diffusione di fumi verso gli strati alti della troposfera e di conseguenza hanno ostacolato la diluizione delle sostanze inquinanti prodotte nell'incendio. Il sindaco di Pollenza, Mauro Romoli, ha deciso di lasciare in vigore l'ordinanza che obbliga il ricovero degli animali da cortile e il devieto di raccolta e utilizzo degli ortaggi a foglia larga. La settimana scorsa l'ARPAM aveva diffuso i primi dati dei rilevamenti della postazione di Pollenza Scalo relativi alle concentrazioni orarie di benzene, monossido di carbonio e monossido di azoto dalle 21 del 6 dicembre alle 11 del 9 dicembre. Mentre per quanto riguarda le PM10 era stata riportata la media giornaliera nelle giornate del 7 e 8. Queste le conclusioni dell'Agenzia pubblicate il 9 dicembre. Dai dati rilevati si osserva come gli inquinanti caratteristici della combustione, come ossido di carbonio e ossido di azoto, subiscano una graduale costante diminuzione durante tutto il monitoraggio, rimanendo nei limiti di legge pressoché in tutte le fasce orarie. Nel frattempo il capannone dell'azienda è sotto sequestro con il legale rappresentante Alberico Leonori indagato, come atto dovuto, per incendio colposo. Ed ora dal nostro sito una notizia di Ea Cronaca. Su di lui pende l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni a carico di una donna di circa 20 anni. Ragioni per le quali i poliziotti dalla questura di Ancona hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusato è un quarantenne italiano. Da quanto ricostruito dalle indagini svolte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica, la violenza sessuale contestata si colloca all'interno di complessi rapporti personali tra i due ex fidanzati che hanno portato la giovane a vivere momenti di puro terrore, un periodo difficile per la ragazza fino appunto all'intervento degli uomini della questura, dei poliziotti della questura che hanno tradotto l'uomo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ed ora invece sempre nel capoluogo per questa notizia che riguarda la politica sono già noti due dei candidati a sindaco. Il centrodestra invece sta facendo, diciamo, sta scegliendo definitivamente il suo e pare essere Daniele Silvetti il presidente del Parco del Conero. Ho ricevuto delle richieste, ci sono delle riflessioni in atto da parte non solo mia ma anche della politica locale. Ci sono delle aspettative da parte della cittadinanza. Io ringrazio di questa attenzione e questa fiducia. Si stringe il cerchio sul nome del possibile candidato sindaco del centrodestra per le elezioni amministrative del comune di Ancona in programma per il prossimo anno. E il nome sembra essere quello di Daniele Silvetti, attualmente presidente del lente Parco del Conero. Nessun colpo di scena dato che la voce sulla possibile candidatura girava già da mesi, ma finora non era mai stata ufficialmente confermata. Adesso invece sembra che la riserva verrà sciolta entro la prossima settimana. È una scelta importante che deve essere compiuta, peraltro, a cinque mesi prima della elezione, perché da questa parte, diciamo, blitz per imporre candidati non ne sono stati fatti. Per cui c'è invece un dibattito, c'è invece un dialogo, non solo fra le forze politiche, ma anche fra alcune forze civiche che rappresentano il territorio e hanno le loro aspettative. Io credo che, insomma, a primi Natali qualche novità ci potrà essere. Se dunque ci sarà la conferma ufficiale della candidatura di Silvetti, si profila il nome del terzo sfidante per la fascia tricolore del capoluogo dorico. Il primo a ufficializzare la sua candidatura quest'estate, a metà luglio, era stato Francesco Rubini, già consigliere comunale per altre idee di città che si ricandida con la lista civica. Il centro-sinistra è invece scelto con le primarie di fine novembre Ida Simonella. L'assessore al porto e al bilancio della giunta Mancinelli, appoggiata dal sindaco uscente, si è giudicata il titolo di candidato con un margine di 45 soli voti di vantaggio rispetto al suo sfidante Carlo Pesaresi. La vera sfida in ogni caso si aprirà il prossimo anno per una campagna elettorale che dovrà tenere conto dell'esito delle ultime elezioni politiche di settembre che hanno visto il centro-destra recuperare e superare il listacco che da sempre lo separava dal centro-sinistra sul territorio comunale. È tutto per il momento, io mi fermo qua. Vi ricordo ovviamente che potete consultare le nostre news e video news ovviamente sul sito di ATV Marche in Quadrato. Da parte mia un ringraziamento per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Buon proseguimento di giornata e arrivederci. Grazie a tutti.